Un bottino da decine di migliaia di euro. Rapina questa mattina alla gioielleria Valenti di via Farini, in pieno centro, a due passi da Piazza Garibaldi. Il colpo è avvenuto poco dopo le nove. Due uomini, vestiti in maniera distinta, sono entrati nel negozio dove erano al lavoro due commesse. Prima hanno chiesto qualche informazione alle addette, poi hanno estratto dai giubbotti rispettivamente una pistola e un coltello. Le hanno minacciate e si sono fatti aprire la cassaforte, sottraendo tutti i preziosi custoditi all'interno. Li hanno infilati in una borsa di pelle. Di seguito hanno legato le mani delle due commesse con del nastro adesivo e sono usciti dal locale indisturbati, allontanandosi a bordo di uno scooter che avevano posteggiato vicino all'ingresso della gioielleria. Ci sono voluti una quindicina di minuti affinché le commesse riuscissero a liberarsi e a dare l'allarme. Sul posto si sono portati gli uomini della sezione antirapine della squadra mobile della questura. Una delle due addette del negozio, a causa dello shock, è stata accolta da malore e si è reso necessario l'intervento della personale della vicina farmacia. Le sue condizioni non sono comunque gravi. Gli investigatori hanno subito proceduto con i rilievi scientifici e hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza poste sia all'interno del negozio che all'esterno, oltre a quelle installate da altri esercizi commerciali lungo Via Farini. Sono state ascoltate poi le testimonianze di altri commercianti di quel tratto di Via Farini alla ricerca di elementi utili all'individuazione dei colpevoli. I malviventi hanno agito a viso scoperto e con la massima determinazione. Si tratta con ogni probabilità di professionisti che avevano studiato il colpo nel dettaglio. Il marchio Valenti in città è presente con altri punti vendita. Nel settembre 2011 a farne le spese era stato il negozio di Via Cavour dove una coppia di sudamericani distraendo il personale di turno aveva sottratto orologi e preziosi per un valore di 8.000 euro. La donna nella fuga era stata però raggiunta e arrestata dalla polizia. Nel marzo 2012 nel punto vendita di Via Bixio invece il bottino era stato di 20.000 euro in gioielli che una donna era riuscita a infilare in borsa approfittando di un momento di disattenzione della commessa.